ascoltatemi bene io lo so molti di voi non sono preparati a questo va bene cannoneggiare in immersione rischiare la vita per combattere il nemico ci siamo arrollati con questa idea di sacrificio ma esporci agli aerei in bella mostra per salvare degli sconosciuti che sotto la facciata della neutralità trasportavano probabilmente materiale bellico per gli inglesi perché? non si tratta soltanto di salvarli si tratta di sacrificarci di spingerci al limite dell'umana supportazione per portarli a terra tenente leclerc traduca tutti devono essere coscienti noi ci troviamo circa 300 mille da santa maria delle azorre che è il porto sicuro più vicino dove siamo diretti ci troviamo circa 300 mille da santa maria delle azorre che è il più vicino e sicuro dove dovremo vivere in questa situazione per circa 48 ore voglio essere molto chiaro aver preso a bordo i naufraghi del caballo significa infrangere le regole che mi sono state date di questo io sono pienamente consapevole di questo mi prendo tutta la responsabilità se al nostro ritorno le mie decisioni non verranno approvate non verranno apprezzate che mi rimuovano dal comando ma qui ora la mia decisione è presa ed è irremovibile noi affondiamo il ferro nemico senza pietà senza paura ma l'uomo l'uomo lo salviamo e senza genade ma di mensi li ridono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti